Mercoledì di Coppa per Team Altamura e Matera impegnate in due gare decisive. I Lucani nella gara di andata della finale di Coppa Italia di Lega Pro ospitano il Venezia. La partita di ritorno è prevista per il pomeriggio del 26 aprile nella città Veneta. Il Team Altamura invece ospita i siciliani del Troina per la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Lettanti. Nella partita di andata, giocata una settimana fa in Sicilia, i biancorossi sono stati sconfitti per 1-0, quindi per qualificarsi dovranno imporsi con il doppio vantaggio. In caso di vantaggio minimo passerebbero gli ospiti, salvo che il risultato non sia di 1-0, in tal caso si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.